In questo giorno la Chiesa Cattolica ricorda i tre santi arcangeli che sono citati nelle scritture sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, per cui San Michele Arcangelo, il principe della milizia celeste, San Gabriele Arcangelo, l'Arcangelo dell'Annunciazione e San Raffaele Arcangelo, che sappiamo essere il guaritore per conto di Dio. Dunque io vorrei cominciare con forse il più strong fra i tre arcangeli, che è l'Arcangelo Michele. Noi innanzitutto sappiamo che il nome Michele viene dall'ebraico Michael, che significa chi è come Dio. Sappiamo che l'Arcangelo Michele avrebbe scacciato Satana e i suoi angeli ribelli dal Regno dei Cieli per precipitarli nell'abisso infernale. E qui possiamo trovare un collegamento in merito a questa realtà spirituale e al significato del nome Michele. Come vi ho detto, esso significa chi è come Dio e si crede che quando la leggenda vuole che quando Michele abbia scacciato Satana dal Paradiso gli abbia gridato in faccia chi è come Dio. E perché ha gridato questo Michele all'angelo decaduto? Lo ha gridato perché il peccato di cui si è immacchiato l'angelo decaduto Lucifero per essere bandito successivamente dal Paradiso è stato proprio quello di volersi fare superiore a Dio Onnipotente ed Eterno. Però cominciamo a parlare proprio dell'Arcangelo Michele in base alle fonti sacre, alle fonti quindi della Sacra Scrittura e poi alla fine ritorneremo su lui. Allora, lo cita l'Apocalisse di San Giovanni al capitolo 12, versetto 7, quando dice, scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Ecco, vedete signori come già nell'Apocalisse di San Giovanni Michele e Satana vengano presentati come due capi di due differenti milizie celesti. Michele di quella milizia celeste fedele all'Onnipotente e Satana capo di quella milizia celeste ribelle al Signore. Dunque, vediamo che Satana appunto viene chiamato il drago, il serpente antico. Questi sono due nominativi con cui lo si identifica. e ci viene appunto raccontato che Michele e i suoi angeli precipitarono Satana e i suoi angeli ribelli dal cielo sino alle profondità dell'abisso. Poi troviamo nella lettera di Giuda al capitolo 9 quanto segue. L'arcangelo Michele quando in contesa con il diavolo disputava per il corpo di Mosè non osò accusarlo con parole offensive ma disse ti condanni il Signore. Ecco, Michele e Satana hanno disputato riguardo il corpo di Mosè, riguardo probabilmente chi dovesse prenderlo e vediamo come Michele non offende Satana in modo gretto come forse ci offendiamo noi fra esseri umani ma bensì gli ricorda, gli dice più che ricordare ti condanni il Signore. Anche ad indicare il fatto che l'operato di Satana è un operato malvagio e opposto al Signore e alla sua divina e perfetta volontà. Poi vediamo che nel libro vetero testamentario, quindi ecco che adesso dal nuovo passiamo all'antico testamento nel libro del vecchio testamento Giosuè capitolo 5 versetto 14 leggiamo. Rispose no io sono il capo dell'esercito del Signore giungo proprio ora allora Giosuè cadde con la faccia a terra si prostrò e gli disse che dice il mio Signore al suo servo? Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè togliti i sandali dai tuoi piedi perché il luogo sul quale tu stai è santo. Giosuè così fece ecco qui non viene citato il nome preciso di Michele voi vi domanderete noi come facciamo a comprendere che in Giosuè si sta parlando di Michele lo comprendiamo proprio quando dice no io sono il capo dell'esercito del Signore si identifica come il capo della milizia celeste e la Chiesa come ha sempre identificato San Michele se non come il principe di quella milizia celeste del Signore. In un altro libro vedero testamentario in Zaccaria capitolo 3 versetto 2 troviamo quanto segue l'angelo del Signore disse a Satana ti rimprovera il Signore o Satana ti rimprovera il Signore che si è eletto Gerusalemme ecco anche qui non viene citato citato Michele noi come facciamo anche in questa occasione a capire che si parli di Michele e non di un qualsiasi altro angelo perché l'angelo che ha una contesa diretta con Satana quell'angelo è proprio San Michele questo ce lo testimonia la scrittura prima e il magistero dopo infallibile della Chiesa di Cristo. Adesso passiamo a un altro arcangelo di gran rilevanza ma poco conosciuto poco dibattuto e poco considerato stiamo parlando dell'arcangelo San Raffaele l'arcangelo San Raffaele il suo nome viene dall'ebraico Raffaele che significa Dio guarisce no? E noi vediamo che lui compare nel libro di Tobia più e più volte dell'antico testamento in Tobia capitolo 5 versetto 11 si dice Tobi a lui fratello di che famiglia e di che tribù sei? chiede Tobi all'angelo indicamelo fratello ed egli che ti serve la famiglia e la tribù? cerchi una famiglia e una tribù o un mercenario che accompagni tuo figlio nel viaggio? l'altro gli disse voglio sapere con verità di che tu sei figlio e il tuo vero nome rispose sono a Zaria figlio di Anania il grande uno dei tuoi fratelli ecco noi vediamo che in questa occasione l'arcangelo Raffaele si presenta non in vesti spirituali ma si presenta sotto forma di uomo quindi con un corpo umano e si presenta con un altro nome il nome di Azzaria no? voi pensate che il libro di Tobia è considerato un apocrifo dagli ebrei e anche dai protestanti ma per noi cattolici e per gli ortodossi è più che canonico quindi seguite chi la dice giusta e non chi è fuori della divina grazia continua il libro di Tobia al capitolo 6 versetto 7 allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda Azzaria fratello che rimedio può esserci nel cuore nel fegato e nel fiele del pesce gli rispose quanto al cuore al fegato ne vuoi fare su fumigi in presenza di una persona uomo o donna invasata dal demonio da uno spirito cattivo e cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna il fiele invece serve per spalmarlo sugli occhi di uno affetto da albugine e si soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono ecco noi vediamo immediatamente come questo Azzaria non sia un semplice uomo come si poteva benissimamente presupporre nel capitolo letto precedentemente perché perché in Tobia 6 7 il ragazzo rivolge all'angelo questa domanda e gli domanda del fegato del cuore del fiele all'angelo lo identifica come un angelo e noi sapendo che è stato Raffaele ad accompagnare il ragazzo nel suo viaggio allora ad accompagnare Tobia nel suo viaggio ecco che noi sappiamo che questo Azzaria identificato dal ragazzo stesso come angelo è proprio Raffaele e come San Michele ha una contesa diretta con Satana noi vediamo come Raffaele abbia invece una contesa diretta con Asmodeo e chi ha letto il libro di Tobia lo sa benissimo adesso arriviamo al terzo arcangelo fra appunto fra i tre più importanti e questo però è il più conosciuto ed è il più forse non dico il più venerato però è il più conosciuto il più dibattuto l'arcangelo Gabriele il suo nome viene anch'esso dall'ebraico Gabriele e significa potenza di Dio noi lo conosciamo principalmente come l'angelo dell'annunciazione ed ecco che Gabriele appare svariate volte sia nell'antico che nel nuovo testamento vediamo innanzitutto quando appare per la prima volta per annunciare il suo ruolo ormai di default affidato gli dall'onnipotente quando annuncia a Daniele dunque perché è lui che in questo capitolo che vi andrò a leggere annuncia a Daniele il tempo e la venuta del messia mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo israele presentavo la supplica al signore dio mio per il monte santo del mio dio mentre dunque parlavo e pregavo Gabriele che io avevo visto prima in visione volò veloce verso di me era l'ora dell'offerta della sera Daniele capitolo 9 versetti 20 21 allora ecco che noi vediamo che questo Gabriele è stato visto in visione volare velocemente verso di lui no nell'orario dell'offerta allora se apparso in visione è un essere celeste nessun essere umano no principalmente a meno che non sia un santo successivamente può apparire in visione a qualcuno ma noi sappiamo che patriarchi e profeti dell'antico testamento non vedevano uomini in visione ma avevano il percezioni del signore della sua gloria del suo santo trono e dei santi arcangeli vediamo poi andando al nuovo testamento l'apparizione a zaccaria no a zaccaria nel tempio quando l'arcangelo si presenta a zaccaria nel tempio di gerusalemme così e ne parla il vangelo secondo luca al capitolo 1 versetto 15 io sono Gabriele che sto al cospetto di dio e sono stato mandato a parlarti a portarti il lieto annuncio no quando Gabriele apparve al sacerdote zaccaria chiaramente cosa gli annunziò se non la nascita di san giovanni battista cugino di gesù ed annunziatore di quella luce che non era lui ma che era cristo stesso come ci ricorda il vangelo il prologo del vangelo di san giovanni o come ce lo ricorda gesù cristo nostro signore giovanni battista la lampada ardente e sei mesi dopo avviene l'apparizione più importante di tutte perché l'arcangelo Gabriele compare alla vergine maria no infatti si dice in luca capitolo 1 26 27 l'angelo Gabriele fu mandato da dio in una città della galilea chiamata nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di davide chiamato giuseppe la vergine si chiamava maria allora noi sappiamo che questa è l'annunciazione più importante quell'annunciazione che compie il messianismo quell'annunciazione che compie il tempo del messia il tempo dell'atteso perché l'atteso il messia a gesù cristo figlio di dio e dio stesso stava per arrivare per venire nel mondo di nuovo vediamo che Gabriele annuncia a zaccaria la nascita di san giovanni battista in luca capitolo 1 versetto 13 dicendogli non temere zaccaria la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie elisabetta ti darà un figlio che chiamerai giovanni ecco allora questo è veramente meraviglioso è meraviglioso perché Gabriele è l'angelo dell'annunciazione è colui che annuncia il messia a daniele nell'antico testamento è colui che annuncia la nascita di giovanni battista la lampada ardente al sacerdote zaccaria nel tempio di gerusalemme nel nuovo testamento nel vangelo di san luca al capitolo 1 versetti 13 15 ed ecco che poi è lo stesso che annuncerà l'incarnazione di dio nel grembo di maria una vergine sposa di san giuseppe anch'esso castissimo allora questa questi sono i capitoli che parlano dei tre arcangeli che andiamo a festeggiare ricordare oggi nella tradizione cattolica ma in special modo adesso volevo tornare e completare una parentesi su san michele arcangelo no e appunto parlarvi di un'apparizione di san michele che ci ha donato qualcosa di particolare il cielo ci ha donato qualcosa di particolare e ve l'andrò a mostrare subito dunque voi dovete sapere che san michele insegnò ad antonia de astonago un rosario in onore di dio onnipotente e di tutti i santi angeli del cielo dove ci sarebbero dovute essere nove invocazioni speciali che si rifacevano ai nove cori celesti che è unitamente al padre nostro e all'ave maria chiaramente questa questa coroncina del rosario io ve la mostro è uno strumento di devozione eccola qui cerco di mostrarvela al meglio la corona è la seguente noi vediamo che ci sono è un rosario proprio per come noi siamo abituati a conoscerlo e vediamo che qui c'è una una medaglietta che mostra san michele che schiaccia satana sotto di sé e girando la medaglietta troviamo il guardian angel così è definito l'angelo custode che diceva padre gabriele amorte il più famoso esorcista cattolico è molto importante a cui richiedere aiuto perché l'angelo custode è sempre con noi oppure san pio da pietre il cina parlava dell'importanza di san michele arcangelo come della beata vergine maria nella sua lotta diretta contro il demonio non è quella lotta mistico fisica e inoltre su san michele abbiamo da ricordare un'altra cosa molto importante che è la preghiera che papa leone tredicesimo stipulò in suo onore allora la preghiera dovete sapere voi di san michele arcangelo com'è che balenò nella mente di leone tredicesimo balenò nella sua mente quando lui ebbe in visione san michele che difendeva la chiesa dagli attacchi del maligno infatti san michele fu eretto a defensor ecclesia difensore della chiesa no e appunto ecco che noi possiamo trovare la preghiera originale chiaramente in latino la possiamo trovare in italiano d'altronde badate bene la preghiera san michele arcangelo è una preghiera che nella messa petus sordo cioè nella messa detta di san pio quinto abolita come sapete tutti molto bene con il vaticano secondo alla fine di quella santa messa si recitava sempre la preghiera a san michele arcangelo che in latino è la seguente sancte michele arcangelo e defende nosi in proelio contra nequizia met insidias diaboli esto presidium impere tilli deus supplices de precamur tuque princeps milizie celestis satana maliosque spiritus malignos qui ad perdizione animarum per vagantur in mondo divina virtute in infernum detrude amen ecco noi vediamo la potenza si può percepire la potenza di richiedere la difesa san michele arcangelo nella lotta contro il maligno che sempre ci attacca nella nostra vita e a cui noi sempre dobbiamo resistere adesso traduco per i non addetti ai lavori in lingua latina la preghiera a san michele di san leone di papa leone tredicesimo san michele arcangelo difendici nella battaglia si tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo che dio eserciti il suo dominio su di lui te ne preghiamo supplichevoli e tu o principe della milizia celeste con la potenza divina ricaccia nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le anime amen ecco questa preghiera recitatela al termine di ogni santa messa recitatevela nelle vostre preghiere quotidiane acquistate il rosario devozionale di san michele per fare queste nove invocazioni speciali e per onorare dio e i santi angeli arcangeli del paradiso con tutte le gerarchie celesti ecco che io vi invito a questo punto del video ad iscrivervi al mio canale youtube attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità inerenti al canale vi invito ad iscrivervi alla newsletter del mio sito web che come sapete è stata riattivata ringraziando dio e chi è addetto ai lavori è stata riattivata quindi vi invito ad andarvi ad iscrivervi lì anche per accedere a contenuti esclusivi esclusivi e oltretutto vi invito se volete in modo totalmente libero a fare una donazione a sostegno del canale e proprio in in tal proposito devo ringraziare il signor castelnuovo moreno per la sua generosa donazione a sostegno del mio canale molto bene io la ringrazio signor moreno vi ringrazio perché mi dimostrate un sostegno e sicuramente un attaccamento anche interiore al mio canale e un apprezzamento per quello che faccio io vi ringrazio in eterno vi porto tutti nelle mie preghiere anche chi è mio nemico ma a me non importa perché qui si deve capire che non abbiamo nemici che il nemico è uno solo ma va bene e allora io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao